Salve a tutti, in questo video vediamo come creare un testo ombreggiato con HitFilm Express 14. Userò un sistema molto molto semplice ed efficace che funziona un po' su tutti i programmi di montaggio e anche quelli di editing grafico. Allora andiamo a creare innanzitutto il nostro testo, quindi A. Clicco qua e scrivo testo prova. Ok. Lo posiziono e qua andando a cliccare su text vado a scegliere il colore. Ad esempio la dimensione, il font eccetera eccetera. A questo punto andiamo a clonare il testo appena creato, quindi andiamo via da questa schermata, quindi media. Teniamo premuto il pulsante CTRL della tastiera e trasciniamo, attenzione a non cliccare qui sul più ma a cliccare qua su. Trasciniamo la clip verso destra e vedete che si duplica, quindi abbiamo creato un secondo testo. Ora prendiamo uno dei due, torniamo a text e mettiamo il colore nero per fare l'ombreggiatura. Ecco fatto. E mettiamo il nero sotto l'altro, quindi oppure quell'altro sopra. Trascino il secondo testo qua sopra in corrispondenza. Perfetto. Quindi adesso ci basta andare a spostare il testo leggermente per vedere ciò che sta dietro, ovvero il nostro testo nero clonato che farà da ombreggiatura. In questo modo possiamo decidere facilmente il distanziamento dell'ombreggiatura e lo spessore. In un modo molto facile. Ricordatevi però che se andate a collocare troppo lontano il testo poi dovete andare a spostare anche quello sotto. L'importante è che il testo nero stia sotto quello colorato. Ed ecco qua. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.